Salve Giorgomaglia e benvenuti in una controlle di Watch Dogs Missioni Missioni ho detto missioni dall'altra parte sistema sito s prendiamo il controllo via guarda guarda preciso e volevo proprio prenderla destra aia piano ma che precisione che c'ha sta macchina oggi va che roba nananana 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 aia eh spiatti si è fermato il semaforo sbagliato ci portiamo via anche il palo e allora siamo arrivati dobbiamo entrare in questo fottuto posto praticamente dobbiamo trovare la guardia col codice d'accesso e hackerare il posto ormai questo l'abbiamo capito come funziona un po' il tutto l'abbiamo ormai capito cosa c'è di qua credi scendere a piedi caro adam cancello ci siamo già dentro proviamo si zona vietatissima vietatissima abbiamo gente la ma non so bene dove teoricamente mi stanno guardando ma non so bene dove siano se io prendo il lato sinistro in teoria me la cavo e chi è? sono così antisgamo devo fare il giro largo da la e allora facciamo il giro largo da la ah eccoli lì sono tutti sopra cos'è piattaforma? ah la posso far girare? ciao c'è questo casino nessuno si è accorto di me? va bene vediamo eh infatti dicevo non è possibile che nessuno si accorga di me sottotiro cosa? ammazzati riavvia missione riavvia missione mmmm nulla c'è qualcosa che non va cosa c'è? cosa pensate? scappate? paura eh? non preoccupatevi ragazzi ci penso io adesso dunque c'è un tizio qua sopra forse qua sotto fanculo non dovresti essere qui è il sottotiro dai eeeh vabbè dividetevi riprendiamo il giro largo perché onestamente mi sembrava quasi una buona idea quasi e se ci fosse un'entrata dall'acqua? per caso? per sbaglio? visto che si tratta di un'azienda potenzialmente potrebbe avere un'entrata dall'acqua che chifo proviamo a fare un giro vediamo se per caso no no di qua se per caso anche dall'altra parte c'è un'entrata la prendiamo larga questa è una delle entrate che potenzialmente allo? è incontituzionale brava guarda se quest'anno non mi danno un bell'aumento me ne vado e non sto scherzando dovresti apprezzare quello che ha andremo da questo cancello che sembra un po' più libero scusa dai fa un culo piano niente musica niente musica è un momento un momento molto da essere concentrato io proverei a farmi una nuotata per me giù c'è qualche... ci potrebbe essere qualcosa no? risali un po' bagna la macchina piano ragazzi piano piano non succede niente vediamo un po' se non c'è neanche un'entrata sotto di qua impossibile? è tutta chiusa non c'è un tubo di scarico un... un cazzo bubolo no direi proprio di no potevo prendere una barca ma a me piace nuotare no no direi che non si avvicinano dall'altra parte no buona l'idea no buona risaliamo forza Adam signor Pierce asciugati con una corsetta e proviamo a rientrare allora la parte di sinistra è particolarmente pattugliata forse passando da destra passando da destra possiamo tentare no dico no possiamo tentare un antisgamo vediamo se ce la si fa ma al momento piano Adam piano piano ok ok non vedo nessuno che mi stia osservando il giro è largo ha avuto i suoi frutti al momento quindi ho uno qua davanti che in teoria girandogli attorno dovrei farcela perfetto se a quello lì gli passo sotto in teoria non mi becca no eccolo la la ce n'è uno troppo lontano troppo lontano mmm qua ci vorrebbe la telecamera cazzarola ad avere una telecamera si riesce a fare qualcosa e invece niente al momento invece niente entriamo di qua mi sa che c'è il tizio là sopra che ci sta aspettando non so bene dove stia quel personaggio lì penso che sia sopra di noi credo un'esplosione qui c'è la guardia girata telecamera rimarrà girata di lì la guardia boh ok bisogna capire dove cazzo sta sto centro CTOS adesso dove sta esattamente il posto da hackerare sarà chiaramente nel centro dove tutti guardano e poi senza codice non posso fare nulla allora facciamo questo tentativo proviamo ad hackerare la telecamera primo ok ok un pochino male rinforzi insegna confusione facciale ho visto una telecamera dov'è? no? l'ho visto male? no ah eccola la telecamera ottimo calcare l'elevatore mmm incuriosito dal sesso furri che cazzo è il sesso furri? ragazzi fatemi capire cos'è il sesso furri perchè non lo so questo qua mi obblighi a andare sulla telecamera questo qui ah ecco dov'è tizio questo? non si può sapere se c'è il codice se c'è il codice fanatico del film western ehh vabbè ehh dov'è l'altra telecamera? ehh telecamera di prima un alce parlante mmm bene torna su ok telecamera questo? no codice no codice esplosione questo l'ho già guardato c'è una telecamera qui qui bla 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 insegna porta no qua non mi porta nulla l'altra telecamera l'altra telecamera quella la ehh questo? niente codice accesso allora questo wow ok qua c'è cazzo non è accessibile fa un culo sono un po' anti sgamo qua in mezzo però non mi piace nascondere qua sotto così zac che almeno sono un po' più riparato dunque torniamo là dove eravamo devo trovare questo cazzo di codice senza il codice non ci faccio nulla sono veramente nella merda senza il codice quella telecamera lì non l'ho ancora aperta infatti là c'è la leggente che non ho ancora esaminato questo? niente piattaforma questo qua eccolo hackerà perfetto ora è necessario è necessario accedere alla telecamera cioè alla telecamera abbiamo visto che non si riesce ad hackerare nulla perché è nascosta dunque torniamo a noi io ho un cazzo di cecchino sopra di qua che può essere abilmente distratto con l'alce parlante che c'è lì sopra e fin qua tutto bene mmm il problema poi sono tutti gli altri il problema poi sono tutti gli altri questo posso passare non posso passare nulla posso uccidere il tizio da dietro quello si ed è sicuramente uno in meno e vabbè fin qua tutto bene zitto 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 non fare rumore cazzo e uno in meno e uno in meno ok e questa è fatta in questo modo ho una visuale libera da questa parte perfetto perfetto ora per andare là poca misera posso fare il giro da sinistra che c'è solo un tizio che guarda verso il dentro e sperare giro largo giro largo per chiamare i rinforzi non ho nulla da mandargli addosso però posso provare a fare il giro di un'altra parte forza solo in questo modo sono un po' più vicino un cecchino sono un po' più vicino alla sala server Fammi capire come posso distrarre sta gentaglia. Piano 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 piano. Piano 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 piano. Sto pensando se posso provare un'altra cosa. E' un problema. Piano 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 piano. Piano piano piano. Bravo. sto pensando se posso provare a fare questo esca esca posso provare a fare l'esca attiro il tizio vediamo se riesco ad attirarlo no, non ha funzionato non ha per niente funzionato, vediamo la telecamera telecamera io sono sotto di lì devo riuscire a venire sopra di qua per mettermi ad attaccherare qui c'è un cecchino come cazzo faccio? li posso attirare tutti e due muovendo la piattaforma c'è qualcosa di strano, avrei giurato di... così, vediamo ottimo ottimo allora lui lo distraggo, lo attiro qua 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 vieni piccolo qua quando no diamo perfetto no 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 ho sbagliato dunque 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 sblocchiamo questo poi questo in modo da sbloccare questo dopodiché dopodiché questo cosi e questo cosi no aspetta questo no così voilà sala server ottimo vediamo cosa abbiamo da hackerare qua allo gabriel non ho visto il nome gabriel non ho visto il nome anche da questo è sempre di sì è eccitatissima in un porno scoperemo come gorilla dell'ascensore si rompezza certo faccia su no va bene eh cazzo te la stai quasi per fare peccato peccato va bene va bene c'è qualche telecamera da rilevata vulnerabilità vai fammi vedere questo cambia la lampadina cambia la lampadina no vandalismo allerto vandalismo m m cazzo pe n p ar co n p ar co mo ok direi che abbiamo creato tutto quello che c'è da hackerare telecamera sblocca prima che vediamo questo vediamo cosa c'è questo cos'è? ah la telecamera dalla spazzatura oh cazzo dai va bene sblocca yes ottimo abbiamo hackerato quello che c'era da hackerare direi che possiamo anche andarcene agevolmente senza grossi problemi da esattamente da come ce ne siamo arrivati via corri pure qua è un'aria abbastanza sicura ormai anche se tu to 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 tu 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 tututo tututo tu 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 ah di qua non puoi uscire Hannkan fa il culo Sono dentro. Ora, Rasin. Vediamo che cosa sai su Niki. Rasin. Vediamo dov'è. Vediamo. Trovato. Robert Rasin. Il cancello, grazie. Allora, 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 allora. Dunque. Vediamo la direzione qual è. La direzione è qua sopra. Beh, direi di prendere anche una barchetta. Una barchetta, visto che stanno qua a fianco. Vabbè, c'è una macchina volendo. Però una barchetta, sai. Ha sempre il suo fascino. Corri, 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 corri. Nuota, 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 nu yes good 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 direzione rasid adesso a fondo facciamo le cose fatte bene boh perceso no 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 dai ma baffa culo